Il punto della situazione a livello occupazionale del nostro territorio del mandamento di Porto Gruaro nei primi 4 mesi del 2012 è sostanzialmente di stallo rispetto a quella che era la situazione indubbiamente abbastanza negativa già presente nel 2011 e ormai presente nell'area, ma anche che a livello nazionale e a livello internazionale negli ultimi 3 o 4 anni. I risultati indubbiamente che le imprese affigiane sono riuscite a ottenere in questo periodo sostanzialmente riescono un po' a fermare quella che è l'emoragia di numero di addetti sia a livello occupazione generale che è l'impresa che negli ultimi 4 anni è stato veramente pesante per il nostro territorio. Attualmente la situazione si è un po' stabilizzata, anche se il settore delle edilizie e delle costruzioni ha avuto un rallentamento particolarmente pesante che ormai raggiunge oltre il 30% dell'occupazione considerando i dati massimi del 2007-2008.